questa è la cabina di verniciatura con quattro pistole automatiche la cabina di verniciatura con quattro pistole questi sono i filtri qui abbiamo un'altra postazione manuale per fare eventualmente i ritocchi con un'altra pistola Wagner tutto come nuovo da questo lato qua c'è tutta la parte degli stati di lavaggio questo è il primo con acqua a 40 gradi con fosfo sgrassante questo è il secondo stadio per fare il risciacquo poi abbiamo un terzo stadio e poi infine l'ultimo stadio con acqua demenializzata con il demenializzatore che è fuori qua abbiamo tutto il forno di asciugatura e cottura questo impianto riusciva a produrre 800 reti al giorno di verniciatura questa è tutta la cabina qua ci sono tutti i filtri diciamo di recupero dei cicloni di recupero della polvere poi fuori c'è un altro filtro a maniche per l'ultimo recupero è un impianto che praticamente si smonta e si rimonta in qualsiasi altro punto e funziona è un impianto a GPL come gas ma si può fare anche a metano ok buongiorno